Sono le altre due Olimpiadi, è da tre Olimpiadi che l'aspettavo, due Olimpiadi che non sono andate bene, finalmente questa qua è arrivata, è arrivato il mio momento e ce l'ho fatta. Ma diciamo che ho fatto una gara come la faccio di solito, partendo un po' piano e poi superando. Omar intanto è terzo, allora tieni Omar tieni! Non è voluto, è che in partenza non sono così forte. Adesso comunque so di essere forte, so di andare veloce, so che posso aspettare il momento giusto per superare ed è quello che ho fatto. Questa è una medaglia per me, questa è una medaglia che mi sono guadagnato io, ovviamente con tutto l'aiuto di tutte le persone in giro, ma è una cosa mia e che voglio tenermi così. C'era molto bello, l'avevamo già fatto in Coppa del Mondo. È diventato ancora più bello, ancora più grande, ancora più spazioso, con tante possibilità di superare una gara come piace a me. Devo dire che è stata veramente una bella pista, una bella gara. Grazie a tutti! Grazie a tutti!